Ah, abbiamo finito il pacchetto di Geki, abbiamo anche l'emoji speciale, 60 penni, 78 bit, attenzione, triplo, triplo ragazzi, il gettore di equipaggiamento, questo è molto buono, nel gear, nel gadget. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars. Signori, eccoci qua, con il video tanto atteso, il box opening per maxare, tra molte virgolette, Fang. Siamo con The King e Theus, che sono due tali smani che mi porteranno fortuna in questo video. Ovviamente, come sempre, i punti energia saranno chiave per sbloccare e potenziare più livelli possibili per Fang. L'oro abbonda, e tanto anche. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ragazzi, ovviamente, partiamo subito con un pollice in su, se non l'avete ancora lasciato. E il codice ferre into the shop, da qui cominciamo col box opening, perché, guardatelo qua, una bella Brawl Box. Tre skip, otto frammenti, Edgar per sei, Eugenio per sei. Wow. A proposito di Edgar, è uscita la skin. Ce la andiamo a pigliare, ma anche sì, ma anche sì, eccola qua. Bella per Edgar, subito, subito così ragazzi, anzi, ce lo teniamo in lobby, magari ci porta fortuna. Già, io confondo Edgar e Fang come se, Fang, e Fang come se non ci fossero domani. Figuriamoci adesso, proprio tenendolo in lobby, è proprio la fine. Regà, partiamo come sempre. Vabbè, un piccolo salto qua al volo. Ok, un po' di punti energia, va bene tutto. Ma, ragazzi, partiamo dai punti, appunto. Quindi, dai punti appunto. Quindi inizia... Fermati, ok. Partiamo. Ok, eccoli qua, subito. 25 punti e facciamo subito Fang al livello 2, ragazzi. Eccolo qua, perfetto. Magari cambiamo un attimo l'ordine, se si può. Ok, così. Poi, poi, poi. Altri 25 punti energia. Sempre sul buon Fang, che bello dover scorrere fino in fondo. Perfetto. Un'altra bella botta da 50. Ok, eccolo qua. Tra l'altro, aspetta, noi possiamo già di nuovo uparcelo. Molto, molto nice. Quindi, livello 3 e livello 4. Vai, perfetto, ragazzi, perfetto. Ricordo che con Grom, l'ultimo brawler, siamo arrivati più o meno all'8. Finiamoci anche il pacchetto. Attenzione, a proposito di Grom. Jesse, Jackie e Grom. Vabbè, l'emoji di Jesse anche no. Quella di Grom. Vabbè, quella di Grom per forza, ragazzi. Ne abbiamo due in croce. E quella di Jackie. Oh, abbiamo finito il pacchetto di Jackie. Abbiamo anche l'emoji speciale. Oh, che figo. No, non la uso, quella di Jackie che clappa, perché le altre sono molto belle. Però abbiamo concluso il pacchetto di Jackie. Molto, molto bene. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Allora, arriviamo ai 50 di nuovo punti energia. Portiamo Feng a metà per il prossimo livello. Anzi, anche oltre la metà. E con altri 50 punti energia, Feng lo portiamo anche al 5, ragazzi. Per ora sembra facile, però tra poco comincerà a diventare più complicato upgradearlo. Feng, ragazzi, livello 5. Molto, molto bien. Speriamo in altri punti energia. Qua ce ne stanno altri 50. Ok. Andiamoli subito a mettere su di lui. Perfetto. Altri 50 pure qua. Ok. Dai. Altri 75. Qua cominciano anche ad aumentare un po'. Ok. Va bene. Eccolo qua l'upgrade disponibile. 75 di oro anche che ci possiamo cominciare a prendere. Arriva sul livello 6, ragazzi. E adesso i prossimi punti sono importantissimi perché da lì cominciamo a sbloccare poi eventualmente il gadget. Quindi ha più senso aprire anche le box. Ok. Andiamo sempre con la massima, massimo ordine. Eccoli qua. 50 punti. Ok. Su di lui. Perfetto. Nice. Poi 75 di oro. 125 punti energia. Scusatemi, questi sono molto buoni. Dovrebbero bastare? Ragazzi, giusti, giusti. Giusti, giusti. Riusciamo a farlo al 7. E quindi qua possiamo cominciare a trovare il gadget. E quindi possiamo iniziare anche a spacchettare. Andiamo sempre per ordine. Partiamo dalle box normali. Ok. Perfetto. Skip dorato. Raddoppi oggettoni per 200. Ok. Così ci bustiamo anche la seconda metà del pass. Con questi schipettini. Molto, molto bene. Vabbè, molto bene. In realtà i punti energia di queste casse sono praticamente inesistenti. Potrebbero essere interessanti se arrivano per Fang. Quindi andiamo con le Big. 10 punti per Grom sono molto buoni. Vediamo un pochettino. 31 frammenti. 30 è il primo. 200 doubler. Molto buono anche qua. Ok. 17. Gettone. Brock per 8. Iris per 8. Vabbè, qua c'è la gettone praticamente. Ok. Fang per 8. Molto buono. Peccato averlo beccato solo all'inizio. Ok. Ancora. Barley. Byron Brock. Ok. Monete d'oro. Frammenti. Mr. P. Rico. Che worka. Gale. E attenzione, attenzione. Vediamo un po'. Niente di che ancora. Cioè, a me interesserebbe il gadget. Perché su Fang il gadget è abbastanza importante. Dai. Cioè, su un livello 7 avere il gadget ci può già dare una bella mano, eh. Ok. 50 punti di Eugenio. Molto bene. Buona per i frammenti. 8-bit. Lu. Però sempre punti col contagocce. Difficile arrivare ad upgradeare ancora. Ok. Buona per Ambra. Buona per Tara che è quasi sui 300 punti. Ok. Gettone, ragazzi. Molto bene. Tara supera i 300 punti. Brock. Eh, Brock. Buonate. Colta ancora non c'è. Andiamo con l'altra cassa enorme. 4 skip. Tara di nuovo. Rico di nuovo. Belle. Ma, insomma, cassa abbastanza gne. 4 skip di nuovo. Frammenti. Spike. Mr. P. Questa qua cassa forse è veramente orribile, direi. 100 di ore. Gettone again. Il buon Daryl. 50 punti per lui. Questi sono deliziosi. Andiamo again con un'altra pig. 8 dina. 11 buzz. Quando mi darà punti, di nuovo. Ma lo capisci subito se ti dà punti o no, perché parte subito un po' più, insomma. Gettone equipaggiamento. 8 bit per 12. Sandy per 50. Ha visto che con 8 bit era già partito un po' più brillante? Eccolo lì. Apriamo la prima cassa del pass. Effettivamente una big di nuovo. 83. 3 skip. Gettone again. Ottimo. Gettone, ragazzi. Guardate che adesso li diamo per scontati. Ma poi quando dovremo effettivamente farci gear, avere tutti questi gettoni, sarà molto importante. Ne stiamo accumulando davvero tanti. Iniziamo con le mega. Ok, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Vai. 193. 7 skip. Ci sono però anche i frammenti. Doppio gettone. Geki per 8. Vieni per 11. Girindo per 12. 60 penni. 78 bit. Molto bene questi ultimi due skip. Ok. Altra mega. 7 skip. 2 gettoni, di nuovo. Bello quando te ne dà 2 in un colpo solo. Bella per Red Garage. Spike. Colonnello per 26. Jesse per 33. E' già i punti di energia che abbiamo visto nella cassa di prima. Qua non c'erano. Gettone again. Perfetto. Il buone è UG. Again. Pocho. Squeak. Bats per 31. Bibi per 57. Che è buona. Bibi quasi a 400 punti ragazzi. Quindi quasi diciamo a metà per il primo livello. Ok. Mega. E' l'ultima. Non lo so se è l'ultima effettivamente. Attenzione. Triplo. Triplo ragazzi. Gettone equipaggiamento. Questo è molto buono. Squeak per 8. JG per 17. Colonnello per 30. Qua ragazzi mi darà tanti punti. Lu per 38. Cheat. E il primo per 50. Che supera i 200 punti. Ok. Ecco. No. Non avevo aperto tutto ragazzi. Infatti. Mi ha schippato la soglia 10. Perché giustamente lui passava sulle soglie superiori. Ultima. Mega box. Ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a beccare. Speriamo nel gear. Che però non so a sto punto se arriverà. Nel gear. Nel gadget. 8 skip. 8 skip. Jet dell'equipaggiamento. Spoccio per 9. Ash per 10. Jesse per 12. Punti energia di sta box fanno ridere. 24 grom. 80 Mr. P. Signori. Arriviamo a 300. E 300. 300 Mr. P. Skip luminoso. Ragazzi. La situazione si fa. Si fa caliente. Vai. Ed eccolo qua. Il gadget dei popcorn. Ragazzi. Molto molto bene. Questo è fondamentale. Però in questo momento ci farà molta differenza. Probabilmente. Signori. Questo è il nostro fang. Con appunto il gadget. Lo iniziamo a giocare. Con gli abomanzi. Ma. Non vedrete la prima partita in questo video. Perché. Avete già capito. Scrivetelo nei commenti. Ci vediamo direttamente con. La seconda partita di fang. Ok signori. La prima partita è avvenuta. Quindi andiamo con la seconda. E. Andiamo. In. Roll ball. Ragazzi. Proviamo un pochettino questo. Popcorn. Di. Di fang. Ok. Attenzione. Qua c'è un mortis. Palesemente. Rank 35. Ok. Buona. Beccati questa ciabatta. Con la torretta. Ok. Buona. Opla. Olla. Bella sta giocatina. Vai. Pizza. E. Bene. Bene. Ma non benissimo. Ok. Qua andiamo a spaccare la povera zia. Oh. Attenzione. Bello. 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 Mi piace. Mi piace. Opla. Ci allarghiamo. Bello sto. Sto mortis. Vedete che comunque il gadget ha avuto già un ruolo fondamentale in sta partita. Cioè quel gadget lì ragazzi è stato comunque importante. Mi ha permesso di dare un colpo dietro il muro. Insomma una cosetta in più. Facciamo anche così. Possibilmente. Bello. Il puscino. Facciamo così. Facciamo così. Veloce. Veloce. Prego. Vabbè. Bello il tiro. Bella l'idea. Tiro grab. Le bizzze vuole trickare ma non è capace ragazzi. Ehi. Ok. Buona. Facciamo così. Facciamo così. Opla. Vado. Che dasciata ha fatto. È andato 50 chilometri più là della palla. Mi sa che bisogna fare come bull. Quindi tipo il tiro. Passo indietro e poi ulti. Però vabbè. Regà. Easy win. Direi che mo vado avanti fino a completare la missione di Feng. Però in teoria anche quella la vedrete poi in un altro video. Quindi regà. Ci vediamo alla prossima. Tra oggi è tutto. Un saluto a tutti. Spero che il box opening tutto sommato sia andato abbastanza bene. Dai. Ciao belli.